Laura Bertolaso per le ragazze, ex equo fra Diego Lazaric e Vittorio Allievi per i ragazzi, questi nuovi campioni italiani dopo i 56esimi giochi nazionali di ginnastica, di cui vedete alcune immagini riprese al palazzetto di Mestre nella terraferma veneziana. Sorprese dunque in campo maschile e conferme in quello femminile. Ecco qui Laura Bertolaso, per la quarta volta consecutiva campionessa nazionale di ginnastica artistica, credo che sia un record, Laura Bertolaso ha fatto degli esercizi estremamente impegnativi, soprattutto per quanto riguarda le parallele e il corpo libero, quale predilige tutto sommato? Prediligo il volteggio, sono più tranquilla anche come l'offronto in gara. Dicevo un record Laura, è un bel record quattro volte di fila a campionesse. Eh sì, c'è stato già qualcuno delle giudici che ora stanno giudicando le ginnaste, e mi sembra c'è stato qualcuno che ha fatto quattro titoli. Sì, probabilmente non consecutivi, certo. Dunque Laura ha una predilezione nella sua vita privata, stranissima, oggi per le ragazze di oggi, Laura ha 22 anni, che è l'uncinetto. È il mio hobby preferito, mi piace più di tutto, qualsiasi altra cosa. Non hai cominciato prestissimo? No, 12 anni, si inizia di solito a 6 anni, quindi non so come fa. Questi campionati nazionali qui a Mestre preludono un gran gala a Roma? Sì, è il 27 di questo mese. Sarà molto impegnativo? Sì. Sì, è il 27 di questo mese.